Grande Fratello senza VIP, iniziano i casting, Belen nuova conduttrice Grande Fratello casting per persone comuni, il reality show torna nel 2018. E' ufficiale, il Grande Fratello normale, con persone comuni, si farà. Come fa sapere Bubino Blog, la società di produzione del reality show ha già comunicato due date dei casting, che inizieranno a gennaio e andranno avanti fino a marzo. Con tutta probabilità, il programma andrà poi in onda in primavera, tra aprile e maggio. Inizialmente si era pensato di trasmetterlo subito dopo la fine del Grande Fratello VIP ma gli autori hanno deciso di aspettare e creare un cast giusto e soprattutto forte, che sia all'altezza delle aspettative. Intanto pare ormai certo il nome della nuova conduttrice, sarà Belen Rodriguez. L'Argentina è riuscita a spuntarla sulla guerrita concorrenza rappresentata da Simona Ventura, Federica Panicucci, Anna Safroncic e tante altre conduttrici. Belen Rodriguez alla finale del Grande Fratello VIP il 4 dicembre. Molto probabilmente proprio per questo motivo l'ex moglie di Stefano Dei Martino sarà presente alla finale del GF VIP. Nonostante i fratelli Cecilia e Geremia siano stati eliminati, Belen è stata invitata misteriosamente dalla produzione. Un modo, a detta di molti, per annunciare il suo nuovo impegno di lavoro che rappresenta un altro tassello importante nella carriera della showgirl sudamericana. È stata invece messa da parte dopo dieci anni di conduzione Alessia Marcuzzi. In realtà la pinnella ha rinunciato per dedicarsi esclusivamente all'Isola dei Famosi, che tornerà su Canale 5 a partire dal 22 gennaio. Confermato poi per l'autunno la terza edizione del Grande Fratello VIP, condotto ancora una volta da Ilari Blasi e Alfonso Signorini. Alta e i delganità! Nuno è morto!